Valentina Vignali Valentina Vignali, Stefano Laudoni spiega perché è finita Stefano Laudoni è ritornato su Instagram e parla della sua ex Valentina Vignali. Il cestista Stefano Laudoni, dopo un po di allontanamento forzato da Instagram, è ritornato sul sociale e ha ripreso a pubblicare foto. Ovviamente tra le foto pubblicate dalla Guardia, alla della Superfalvor Milano non ci sono quelle con Viola Valentina Vignali con cui ha avuto una relazione. La storia tra i due cestisti è giunta al capolinea qualche settimana fa ma i motivi non erano ancora del tutto chiari. È stata proprio la modella a dare la conferma sul social della fine della storia con il suo compagno Stefano. Il post scritto dalla Vignali aveva fatto pensare ad un tradimento di qualsiasi genere subito da parte della stessa ma Laudoni aveva prontamente ribattuto, affermando che non c'era stato nessun tradimento. Dopo la fine della storia tra Stefano e Valentina ad esporsi un po di più è sempre stata quest'ultima ad esporsi in merito alla fine della loro storia. Oggi, invece, parla proprio Laudoni che, avendo ormai una storia con Francesca Brambilla, dice di stare bene con la sua attuale fidanzata. Stefano Laudoni e Valentina Vignali, ecco come sono andate le cose tra loro. Stefano Laudoni esplode e risponde a che lo accusa di aver intrapreso un'altra storia troppo presto dalla fine della sua storia con Valentina Vignali. Il cestista ha pubblicato diverse foto su Instagram e sotto molte di queste spiccano dei commenti poco gradevoli, che criticano il comportamento del ragazzo. Stanco di numerose accuse risponde, la storia mia e di Valentina era cinque mesi che non andava più. Lo capite o vi devo fare un disegno? Dovevo portarla avanti solo per fare contenti voi quando poi dentro casa si litigava tutti i santi giorni? Quando io ho iniziato a frequentare Francesca erano venti giorni che Valentina era sparita da casa portandosi via tutto. Stando alle parole di Stefano, dunque, la storia con la Vignali non era ciò che veniva mostrato ai fan attraverso i social, una foto insieme e una didascalia romantica. La storia tra i due cestisti era diventata ormai abitudine. Stefano Laudoni continua a sbilanciarsi su Instagram e risponde a che lo accusa di aver finto che tutto andasse per il verso giusto, non abbiamo finto niente, abbiamo provato ad andare avanti, a salvare la storia ma fino ad un certo punto perché poi la verità viene fuori e se stati insieme ad una persona solo per abitudine non è più amore. Il sentimento da parte di Laudoni solo da parte sua probabilmente sembrava essere svanito ormai tempo fa, tanto da riuscire a dedicarsi totalmente ad un'altra persona.